Ciao ragazzi, sono io, Dark Jason Ora vi starete chiedendo, ma che fine ha fatto Jason? Beh, l'ho lasciato un po' andare e ho preso il controllo del suo corpo Ragazzi, ho preso il controllo per un secondo Per prima cosa... Una risposta inutile Beh, ve lo dico io Stavo dicendo che ho avuto un cane su Minecraft E niente, si chi ha... E niente, ha detto che si chiama Tito Beh, chi è che non ha mai avuto un cane su Minecraft? Beh, io, Dark Jason Beh... Beh, va bene Sì, beh, si ha avuto veramente un cane di nome Tito su Minecraft Beh, l'ho chiamato così lui E che ci posso fare io? Beh, e poi... Beh, e poi... Beh, l'ho domesticato da molto Sì che niente Comunque... Torniamo a noi Io invece ho preso il controllo di Jason su tutto il corpo E qui invece mi sono preso un po' di cose Prima di registrare il video Oh, questa carne Beh, ho fatto del male ad una mocchina E voi non sapete che fine orribile ha fatto Beh, eccomi qua Ho preso anche un po' di legna E ora si è fatto anche notte E ora si è fatto anche notte Beh... Ok... Ora... Ora... Facciamo delle... Beh... Con il nostro banco da lavoro... Beh... Facciamo il tutto Ora... Ci facciamo... La nostra piccone Che è l'unico Che non ho fatto Beh... 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 Fa niente Ha ha... Beh... Cerchiamo di distruggere Ok... 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 Beh... Tra poco dovrebbero comparire dei mostri E io sono già pronto a tutto E a proposito Dite ad Erobrine Che adesso c'è Dark Jason Beh... Beh... Sì... Da un po' Jason dice di aver visto Erobrine Nel nulla Beh... Sì... A volte se lo sogna Cavolo... Sono caduto come un machine Beh... Oh... Un ragno, eh Beh... Far più Jason E io so come essere Perfido Beh... Prendiamo un po' di... Oh... Che c'è... Oh... Oh... Yeah... Devo cercare di risalire Oh... Il corpo di Jason È un po' Beh... Devoluccio Devo dirlo Ma almeno... Ma almeno lo sai Ma almeno... Beh... Sai il fatto suo Beh... Oh... Cavolo... Non riuscire mai a risalire Eh... Ma non con i miei poteri D'attacca Gesù Ah... Che male Oh... Ti amo Il ragno è caduto in acqua, eh Non puoi essere più forte di me Ho dimenticato la mia spada Prendi questo E questo Ah... Finalmente Beh... Ok Abbiamo anche della corpicella Ora possiamo, beh... Fare le nostre cose No... 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 Non ci riesco Penso che questa sia la fine Che mi devo cercare Un altro La corticella Ce l'abbiamo già presa Aia che male Ben meno male Che questa carne Che ho questa carne di mucca a guarirmi Ora beh andiamo a cercare Qualche mostro Abbiamo già combattuto contro un ragno Beh ok Ora dovrò prendere un po' di roccia Preso Preso Ecco fatto Facile come prendere una cara bellina Ad un bambino Sono quello che fanno I soliti Le solite persone normali E beh Eccomi qua Ho preso Eccoci qua Ho preso il controllo sul corpo di Jason E beh Oh cavolo Beh Ecco Va bene Penso che Beh Non abbiamo fatto niente di che Oh cavolo Non ci riesco Beh Beh Stare Stare qui nel corpo di Jason Beh Non è molto divertente Anzi Oh Una canna da pesca Mi servirà per prendere dei pesci Intanto continuiamo con la piccozza Ok Beh Ovviamente questo video sta durando molto Ok Preso Beh Non ci vado molto bene Che male Che male Beh Inoltre iscrivetevi al canale di Jason E beh Lasciate un mi piace anche sul canale di Jason Beh Beh è stato bello Una pecora Con la mucca sta scappando Beh Ho dovuto tappare tutto Mi dispiace Beh Perché io dico mi dispiace Sono Dark Jason Io non chiedo mai scusa Beh Cavolo Oggi comunque siamo in questo nuovo mondo Ma Perché stai scappando mucchino Torna subito qui Se lo fa Se scappi ancora Farai la stessa fine dell'altra mucca E dell'altra pecora Beh Almeno abbiamo della lana Oh beh Se ci venirà fame Dobbiamo scambiare con qualche cosa Con della terra Beh Potete anche chiamarmi nosa Già Beh Sì Quello mi ero dimenticato di dirlo Beh È stata Una giornata un po' Noiosa Più di stare dentro Nel corpo di Jason Infatti Beh Non è stata Poi noiosa Ho un po' Fatto Ammace Io ho macellato un po' Di Di animali Scusate Ora Faccio ritornare Il comando Gesù Va bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto E noi ci vediamo In un prossimo video ragazzi Ciao Ciao